La più frequente causa di morte in Italia sono le malattie cardiovascolari. Con le malattie cardiovascolari non si scherza. Sostieni la ricerca per le malattie cardiovascolari. Sosteniamo l'associazione Onlus Cuore Domani. Il nostro cuore è al centro del petto, è al centro dei sentimenti, è al centro della nostra vita. Basta una telefonata o un sms al numero 45587. Mi raccomando. Sosteniamola insieme. È sufficiente un messaggio, una telefonata. Ripeto, 45587. Fatelo anche voi, io l'ho fatto. Per il mio cuore domani. Mi raccomando, chiama per donare.